Salve Toni, Laura e a tutti i seguaci della vostra associazione. Anch'io mi unisco alle varie testimonianze che sono cominciate, ognuno con le proprie storie, con i propri pelosetti. Io sono di Firenze, mi chiamo Barbara e ve lo faccio vedere il mio adorato birbone. Di Jack Russell, che ora se la sta godendo, il rilassato. Questo canino si chiama Ice, ha dieci anni, è stato preso dalla mamma, classicamente dopo i tre mesi, però ha un bel caratterino, è un bel impegno, tant'è che avevo tentato per una seconda compagna per Ice, ma Laura appunto mi disse di valutare se, infatti, ho dovuto desistere, perché ho visto che comunque caratterino sia con maschi che con femmine, non è molto, diciamo, sereno. E quindi, seguo Laura e Toni e come tanti contribuisco, volentieri, appena posso, e ammiro tutto quello che loro stanno facendo e devo dire che sono unici perché fino adesso non mi ero mai imbattuta in persone come loro, con questa tenacia, con questo grande amore e verso gli animali, che dire, un buon proseguo di lavoro a loro, con tutto il cuore, e tanto seguo comunque. E mi è piaciuta questa iniziativa, di poter partecipare, come dire, visivamente, a un contributo proprio diretto a loro e anche a tutte le persone che seguono e che vogliono bene agli animali. Un saluto di nuovo e un abbraccio a Laura e Toni. Ciao ciao!